Cantiere in corso sulle ferite dell'alluvione del 2015. A Marsaglia sono infatti iniziati nei giorni scorsi i lavori di costruzione dei campi da beach volley, da calcio e da calcetto, da ricostruire tempo un mese. Il cantiere aperto da pochi giorni è stato reso possibile grazie ai contributi della Regione e del Tavolo Provinciale di Solidarietà e donazioni di privati. L'alluvione del 14 settembre 2015 aveva spazzato via anche due ponti a ferriere, sia quello sulla Provinciale di Folli sia quello su strada comunale vicino al centro abitato sul Nure. Entrambi nell'ultimo anno e mezzo sono stati sostituiti con due guadi, uno di competenza della provincia e uno del comune. Il secondo potrà ora andare in pensione perché nei prossimi giorni si aprirà il cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto, ottenuto il finanziamento regionale di 80.000 euro. Inferiore rispetto alla richiesta del municipio, ma soddisfacente per il primo cittadino, Giovanni Malchiodi, che ha incalzato la provincia perché venga ora ricostruito anche il ponte di Folli. Stamattina il Comitato per la tutela delle vittime dell'alluvione si è riunito al Parco Tel. All'incontro è stato chiarito come l'iter di accesso e rimborsi sia piuttosto difficile. Necessario dotarsi di un certificato del comune e attendere i tempi necessari dal momento che le banche attingono alla Cassa Depositi Prestiti, che apre solo alcuni giorni al mese per questo tipo di pratiche. All'incontro è stato sottolineato come su 20 milioni di euro di richiesta di risarcimento da parte dei privati vi sia accesso solo per poco più di un milione di euro nella strada dei rimborsi, ancora escluse le aziende.